Il Natale è magia ed è soprattutto la festa dei piccoli, poste italiane, è stata protagonista di una bella iniziativa nella sede lungo corso Vittorio Emanuele in pieno centro storico. Ospiti della speciale mattinata e gli alunni della scuola primaria Santa Maria degli Angeli per leggere ed imbucare le loro letterine speciali a Babbo Natale. Siamo contenti di ospitare i bambini qui da noi nell'ufficio postale in questa iniziativa che è un'iniziativa un po' speciale, è un po' un ritorno anche alle tradizioni ed è bello, veramente bello. Siamo soddisfatti e speriamo che si ripeta anche negli anni successivi questo tipo di accoglienza. I bambini infatti sono stati invitati e per loro è importante far arrivare le loro letterine a Babbo Natale. L'iniziativa si chiama proprio Letterine a Babbo Natale, nelle lettere, speranze e desideri. Per loro è stato importante perché avendo già scritto anche delle letterine a Babbo Natale con la famiglia, appunto, diciamo, sognando i regali da avere, questa è stata l'occasione invece per provare a ringraziare Gesù Bambino per un dono grande, quasi tutti hanno messo per mamma e papà, e poi per anche chiedere qualcosa di grande, quindi magari proteggere la famiglia, la pace e tanti di questi valori che in questo momento, anche se sono piccoli, ecco, hanno bisogno di cominciare a provare e a sentire. Come ti chiami? Stella. Senti, tu che hai scritto nella letterina a Babbo Natale, che hai chiesto? Di proteggere mamma e papà.